Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi risponderò a un domande un po' scomode in modo onesto. Già ho fatto altri due episodi, se non erro, di questa saga, che vi lascio qua sopra ad andare a vedere. Ma se vi piace, lasciate subito un bel like a questo video perché aiuta tantissimo all'algoritmo di YouTube che sapete fa schifo in questo periodo, come vedete qua sotto, proponendomi le vostre domande scomode che magari utilizzerò per registrare il prossimo, per rispondere a delle domande scomode. Ma non ci perdiamo in chiacchiere, mi raccomando, seguitemi su tutti i social, in questo caso ve l'ho presa da Instagram, quindi Instagram peppott93, anche su TikTok peppott93, seguitemi subito e adesso via con la sigla! Prendiamo il mio cellulare e le leggiamo subito insieme. La prima, quando hai capito di voler fare il medico avevi un piano B? In realtà questo non credo che sia una domanda scomoda, ma credo di aver capito di voler fare il medico intorno al terzo anno, sì in terza media più o meno, seconda terza media perché ero molto portato per le materie scientifiche e mi sentivo attratto verso questo mondo. Un piano B assolutamente sì, ingegneria biomedica, veterinaria e biologia. E ne pensate di muovere tutto durante tutto il percorso universitario? Anche quello sì, ci ho fatto anche un video dettagliato, quindi magari andatevelo a vedere, ve lo lascio qua sopra se lo riesco a trovare. Ed è un video dove appunto raccontavo il perché avrei voluto mollare medicina, come adesso mi trovo, ovviamente mi trovo in quel momento. Obiettore, è normale che ci siano ospedali e regioni in cui sono tutti obiettori anche se è diritto? Obiettore, è normale che ci siano ospedali e regioni in cui sono tutti obiettori anche se è diritto? Male no, non è ovviamente normale, come ben sapete è un diritto che è costituzionale, cioè c'è scritto per legge secondo l'articolo 4 e 6 della legge 194 che regolamenta l'aborto in Italia, quindi come ben capite è qualcosa che è regolamentato in Italia, e quindi è un diritto di tutte le donne poter volontariamente o se ci sono determinate patologie poter decidere di abortire. Purtroppo per una serie di problematiche capita molto spesso che ci siano appunto strutture ospedaliere dove molti dei medici, se non tutti, sono obiettori e quindi di conseguenza non è possibile praticarlo. Questo è ovviamente per una serie di problematiche che ci possono essere relative all'etica di ogni medico. Non è giusto che ci sia, ma come c'è un diritto appunto per la donna di poter abortire, c'è un diritto per il medico di poter essere obiettore, quindi come non si può condannare una scelta, non si può condannare l'altra scelta ovviamente, anche se non si condivide né in un senso né nell'altro. E' mai tradito? No ragazzi, non ho mai tradito, credo che se uno decide di avere, ricopentarsi con un determinato tipo di persona, lavorare un tipo di relazione stabile, bisogna essere fedeli. Se per una serie di motivi, perché io credo anche e soprattutto che se sono innamorato del mio partner, della mia ragazza, non ho voglia di tradirlo, cioè non ho occhi per altre ragazze, sì ci sta la battuta, la scherzosa con l'amico, col compagno, ma ovviamente nulla che potesse pregiudicare, che potrebbe pregiudicare il rapporto, proprio perché non lo vuoi fare perché ci tiene a quella persona. Ecco, se solo in te si sta ora l'idea, il voler fare qualche cosa, vuol dire che c'è un netto rapporto dei problemi, che bisogna provare a risolvere. Se non si risolvono, è giusto che quella relazione si interrompa, poi puoi fare tutto quello che vuoi, almeno questa è la mia personale opinione. Doc, questa è già diciamo con le cose un po' più spinte, subito. Doc, dici sempre così e non rispondi mai. In realtà sto rispondendo che però ho una serie di cose, poi non faccio tempo a registrare il video e succede questo. E mi hai fatto un ascensore? Ovviamente sì. E mi hai fatto un ascensore? Ovviamente no. Non mi è mai capitato. Anche perché come fai un ascensore? A meno che non è di 50.000 piani, che va pianissimo. Cioè, che cosa fai? Sei mai uscito e andato a letto con una paziente che ti piaceva particolarmente sincero? Allora, no. Poi mi è capitato di rivedere delle denominate pazienti al di fuori dell'ambito ospedaliero, e a distanza di tempo, quindi è stata paziente, magari l'ho vista in ospedale, ma non c'erano più contatti. Ovviamente lì non si considera più paziente, ma è tutta un'altra storia. Come fare ad avere un'erezione senza Viagra? In teoria, tutte le persone hanno un'erezione senza Viagra. E se devi utilizzare il Viagra, però si mettono i problemi che vanno indagati, e ti consiglio di rivolgerti al tuo orologo di fiducia. Perché quando faccio attività fisica, saltare, sento che sto per farmi una pipì addosso, potrebbe essere una condizione clinica chiamata urgenza, minuzionale, urgenza da sforzo più che altro, ed è utile indagarla con il tuo ginecologo. Comunque, io non so, domande scomede, risposta oneste, e mi ritrovo insomma in domande di ginecologia. Vabbè, quanto sei alto? 177, 676 centimetri. Come fate quando capita gente sporca? Non facciamo, cerchiamo di garantire noi, se la paziente è ricoverata, il massimo igiene possibile, quindi ci sono tutto il personale preposto all'igiene dei pazienti. Ovviamente le cure, come ben sapete, sono garantite a tutti, è ovvio che non è igiene, per quanto possa essere ovviamente open-up, non è il mio tipo di igiene, e consigliare al paziente la migliore igiene possibile, è ovvio che non puoi fare molto. Diventi alla scuola di ginecobari? Ma guarda, ti posso dire, ci ho fatto un video comunque su ginecologia in generale, ti posso dire che è una scuola in crescita, in evoluzione, è l'unico difetto se vogliamo dire che siamo tanti, tanti, e quindi poi le attività che puoi fare, da una parte ti diminuisce il carico di lavoro, dall'altra hai meno opportunità per imparare, purtroppo. Il tuo rapporto con la masturbazione? Come ben sapete, ragazzi, è un qualcosa di normale, normalissimo, soprattutto per i ragazzi, si è visto che avere almeno 3-4 eoculazioni settimanali riduce il rischio di umare alla prostata, quindi è un'attività che è anche consigliata dagli urologi, smentitemi con le urologi, ma dovrebbe essere così, e che quindi, cavolo, da uno modo o nell'altro. Sei single? Sì. Ma ti mangi le unghie? Purtroppo, come vedete, ragazzi, sì, me le mangio, è un mio difetto che ho da tantissimo tempo, non so cosa fare, consigliatemi voi come fare. Commenterai del ginecologo di Bari? No, ovviamente no, ragazzi, non commenterò, perché non sono cose che si commentano. Penso che quello che è successo verrà poi valutato dagli organi competenti, non sta a me dare né un parere, né un'opinione, non ho né i requisiti, né non conosco la persona, quindi non ho nemmeno, non sono nemmeno i fatti reali, ecco, come sono avvenuti, come non sono avvenuti, io vedo il servizio delle Iene, come l'avete visto voi, ma più di quello non posso dire, di conseguenza ci saranno le figure preposte a fare questo tipo di valutazione. E fatta la terza dose? Ancora no, ragazzi, ma la farò a breve, quindi vaccinatevi, io sto presentando che è il Lab Vaccinale, mi chiamo sostanzialmente, vaccinatevi pure voi, fatelo, che sia la prima, la seconda, la terza dose, vaccinatevi che è fondamentale per riuscire, purtroppo, da questa pandemia che ci sta colpendo. Perché ragazzi non vogliono usare il preservativo? Non lo so perché non lo vogliono usare, forse perché c'è la falsa credenza che il rapporto senza preservativo sia più bello, in realtà c'è un numerosi studi scientifici che affermano che chi ha sempre utilizzato il preservativo si trova bene a continuare a utilizzare, e siccome, soprattutto quando si è più giovani, per i più giovani che mi seguono, magari non si ha un rapporto stabile con una persona, ma più rapporti salato-cassuali, c'è il rischio di avere malattie socialmente trasmesse, e quindi state attenti perché le malattie possono compromettere la vostra vita per sempre. Quindi mettetevi il preservativo, proteggete voi, proteggete gli altri, e state più sereni. Quando sei egocentrico da 1 a 10? Ma in realtà non mi deputo molto egocentrico, secondo me voi avete un po' una visione distorta della mia personalità, o della mia persona, perché faccio io su YouTube, mi espongo, parlo tanto, ma in realtà sono una persona molto insicura, molto introversa, e che è ovvio che i social tendono a mostrare un aspetto diverso di quello che sono, non che mi mostri come non sono, ma comunque tendono a mostrare dei migliori aspetti che poi ovviamente nella vita reale magari non vengono fuori. Da quanto tempo sei single? Tre anni, due anni e mezzo, più o meno. Le unghie, l'unica nota negativa che puoi avere, per il resto sei top, grazie mille. Tempo narciso? No ragazzi, no raga, veramente. Con tutta l'onestà di questo mondo, non mi reputo così bello, mi reputo sicuramente un ragazzo normale, un ragazzo che è carino, attrae sicuramente, ma attrago forse un po' per la mia personalità, forse un po' per tante piccole cose di me, ma bello o no? Discreto. Poi in palestra mi piace mostrarmi, ma è un altro conto. È tutto un ideale come dovrebbe essere? Allora ragazzi, io ho un prototipo di donne ideale, ma questo non significa che poi in realtà non mi capita di innamorarmi, di piacermi tutt'altro. Di fatto a me piace una ragazza altezza massima 1,65, bionda, diciamo fisico-atletico, ecco, definiamolo così. Però poi può capitare di tutto di più e l'importante in una relazione, per quanto ci possa essere l'aspetto estetico, che sicuramente non ci perdiamo in chiacchiere o non diciamo falsità, è importante, almeno a primo impatto per decidere di voler conoscere una persona, una ragazza che mi voglia bene, quindi. Ma c'è bisogno di mostrare i muscoli? Non è che abbia tanti muscoli, ragazzi, io personalmente definisco il mio fisico molto, molto mediocre. Sicuramente il problema è che negli ultimi anni la qualità dei fisici, delle persone italiane, si è abbassata tantissimo. La tantissima gente in sovrappeso, non si allena e quindi il mio fisico può sembrare sopra, ma in realtà secondo me è un fisico normalissimo di una persona che ci tiene e si cura e tiene cura del proprio fisico. Tuo padre, mi avessi bastoni fra le ruote durante il tuo percorso di medicina? Assolutamente no. Secondo te, voi vi siete un po' persi perché mi avete fatto domande meglio da questo, meglio, non è una domanda scomode. Questa è più carina, facciamo chiudo il discorso con questa. A volte quando ho un orgasmo mi sale il pianto incontrollabile e un po' d'angoscia capita a delle ragazze. Non so onestamente il motivo. Fatemi sapere a quanto di voi capita che magari dopo aver raggiunto l'orgasmo mi mettete a piangere o a una situazione un po' particolare. Non lo so, onestamente non ho approfondito il discorso. Dito ciò ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, supportatevi sempre con un bel like, iscrivetevi al canale, fate qua sotto le domande per il prossimo Peppe risponde a domande scomode in modo onesto. E quindi vi iscritti i social, Instagram, TikTok, Peppe, tornate a te e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!